Mi è stato fatto osservare che forse non è molto conveniente ripostare alcune letture fatte in passato, anche se penso che lo farò, almeno per alcune letture che ho visto che sono state, al momento in cui sono state passate, sono passate via senza essere notate, che a me sembrano invece, almeno il contenuto del racconto, che avesse un certo valore, insomma, che quindi meritasse di essere preso più in considerazione. Lo farò anche perché è il caso di migliorare per quanto possibile l'audio di certi video che ho postati in passato, molto carente perché la registravo con la webcam. Invece prenderò magari l'occasione per commentare alcuni romanzi, alcune letture fatte in passato con l'aiuto di un'antologia interessante per le scuole superiori, darne una breve spiegazione che aiuta poi all'interpretazione più approfondita del racconto e quindi farò questi commenti. Comincerò adesso e linkerò sotto il titolo, il romanzo, il racconto a cui questo commento si riferisce. Cominceremo anche in ordine cronologico, se volete, partendo da un racconto che ho postato tre anni fa, ma ho letto più di tre anni fa, di Alberto von Chemisso. Cominciamo col dire due brevissime notizie biografiche del conte Adalbert von Chemisso, vissuto tra il 1781 e il 1838, nato a Boncourt, nello Champagne, quindi in Franza, e morto a Berlino. Fu poeta e scrittore di origine francese, ma scrisse le sue principali opere in lingua tedesca, poiché la sua famiglia si era trasferita in Germania in seguito alla rivoluzione francese del 1789, un personaggio inquieto, senza patria, francese in Germania e tedesco in Franza, come capita anche a molte persone, magari non di nazionalità, ma di cittadinanza, di città diverse, no? Visse a Berlino e a Parigi. Fu ufficiale dell'esercito prussiano, quindi aveva fatto una sua scelta dalla parte dei tedeschi. Poi scrittore a Parigi, nei salotti di Madame de Steyl, infine direttore dell'orto botanico di Berlino. La storia meravigliosa di Peter Schlemil fu ripresa da un racconto popolare e il nome stesso del protagonista non fu scelto a caso. Esso richiama il termine Schlemil, maschera del folclore ebraico, che rappresenta il mal destro, e la parola di origine iddis, cioè ebraica, shimati, che significa uomo perseguitato dalla sventura. Il libro ebbe subito successo. Tradotto in varie lingue fu ripreso da Hoffman e da Andersen, che nel 1847 pubblicò la favola l'ombra, in cui un uomo non solo perde la sua ombra, ma è costretto a diventare a sua volta l'ombra di quest'ultima. Magari avremmo cagione di leggerla, questa fiaba di Andersen. Allora, venduta la sua ombra, per Schlemil iniziano i guai. Nonostante la ricchezza, egli viene evitato dalla gente e la sua fidanzata è diventata sposa del suo servo e si è arricchito derubandolo. Egli potrebbe riavere l'ombra, se vendesse la sua anima al diabolo, ricomparso dopo un anno, ma rifiuta il nuovo patto, rinuncia alla borsa e divenuto botanico, vaga per tutta la terra, desideroso di espiare. Acquistato un paio di stivali, Schlemil si accorge che si tratta di stivali delle sette leghe, con cui a velocità vertiginosa passa da un continente all'altro nei suoi viaggi di naturalista. Infine, ricoverato in ospedale, rincontra la sua fidanzata, ormai vedova. Ma non si fa riconoscere. Le peregrinazioni di Schlemil saranno anche di tipo intertestuale. Nel suo vagare, infatti, egli capiterà anche in un romanzo di Theodor Hoffman, che lo rappresenterà in compagnia dell'uomo che ha perduto la sua immagine. Questo romanzo si intitola Le avventure della notte di San Silvestro. Schlemil, in questo racconto, affronta situazioni ricorrenti nella lettura tua fantastica. Il patto col diavolo è il tema del doppio. Nel primo, qui, si rappresenta la fase iniziale. Il protagonista soffre della propria povertà. E il diavolo, sotto altre spoglie, dapprima lo abbaglia con i suoi portenti e con l'arte subito della dell'adulazione. E poi gli offre il denaro che egli inconsapevolmente desidera, in cambio di un oggetto apparentemente insignificante, l'ombra. Come tutte le vittime del patto con il diavolo, Schlemil ha quindi un crucio segreto che lo rode, un punto debole prontamente individuato dal maligno. L'episodio, nonostante la sua gravità, viene narrato con semplicità e precisione realistica, ed in questo sta il suo fascino. A differenza di quanto avviene nel romanzo gotico, dove i luoghi, tra di perso remoti nel tempo e nello spazio, si colorano delle sfumature maledette della storia, qui l'ambiente è borghese, ed è lo spirito borghese a permeare della sua quotidianità, anche ciò che ha ragione appare sensazionale. Poi si affronta anche il tema del doppio. Il protagonista non sa che cedendo l'ombra si sta separando da qualcosa di sé, connaturato alla sua personalità, che da quel momento in poi risulterà mutilata, incompleta. L'importanza dell'ombra è volutamente vaga, e sarebbe sbagliato attribuire ad essa un significato preciso. Nel testo appare inverosimilmente concreta e dotata di una sua magica fisicità, nella scena indimenticabile in cui il diavolo la stacca con cura da terra e la arrotola, ma proprio per questo il narratore si guarda bene dal definirne il reale valore, sociale, morale, psicologico. Nel racconto ci sono delle allusioni a queste interpretazioni, ma non è mai possibile fissarle con certezza. Se ciò avvenisse, dovremmo parlare di racconto allegorico. Infatti, nell'allegoria, come nei proverbi, ciò che si dice è meno importante e meno chiaro, dell'insegnamento morale che sta nascosto dietro le parole.